Sono stati quanti amici sono stati, infatti qualcuno lo dovrebbe essere anche da mezzo per protetto. Ho anche un po' di tempi, nel momento in cui è più difficile, diciamo, parla, perché ero in realtà una cosa che è scritto su quella che è stata la formazione, e come si è adattato a questo punto, se non lo potete esistirare per altri anni, io anche ad abuso, ma ad un altro punto, ad addirittura avevo una proposta che fosse un nome di unizio sul gerudale, perché mi stava mai in proposta, e anche mi può la vita, e no, per me io sia un anno che mi era un altro punto. Ma questa è una cosa più importante, la cosa che mi fa, mi fa sospettare, mi fa dare nel senso tempo, è che si parla spesso, avendo forse il capacimento di andami, o di antica, diciamo, maggiore dispensa da noi. Però, ci parla di argomenti, diciamo, personale, ci parla di argomenti. Io sono quello che io mi chiedo, se io mi presento a questa, non posso dire che l'amministra di loro. Come dicevamo, noi stiamo in pochi, forse a dover avere la visione della città. Io sono uno di quelli, se non mi presento a valore, non nemmeno, non mi parlo. E il mio caso mi diceva tutto, che si rompe quello che mi dicevo tutto, quindi non me lo so per me, soprattutto se poi andremo dal nostro lato, e fare il consigliere non è un lavoro. Non è un lavoro, non è assolutamente una cosa che mi fai per scampare. Lo fai per passione, lo fai per volontà, ognuno lo fa per qualcosa di reale. Io lo faccio perché io sono innamorato di quello che faccio, quindi non mi diventa assolutamente, nemmeno di un giallo per indietro, perché non mi cambiano la vita. Il discorso che è in là, che va appuntato al fatto che qualunque si viene presentato un documento da vostra professione, dove cinque persone, che non mi cambiano, non mi cambiano, ci in peccato gruppi, recrima di loro si mette, il soggetti, a pubblicare le regolamenti, quindi cambia le regolamenti, quindi cambia le regolamenti, sono persone intelligenti. Cambia le regolamenti, non mi cambia le regolamenti, ma non è successo, ci sono due, tre, tre, per minimare la stessa volta, e mai cambia le regolamenti, che è la versione dell'esigenza, come io, come si diceva io. Io non sono sentito il cambio del regolamento, sono sentito questo che, allora ho fatto più, ma aver lavorato sui primi, non dire che devi necessariamente, ora non cambia la sua parola, cioè, mentre facessi un minuto a tutti, costruisci una carta, mi rendo tutto che potrebbe, allora no, sto lavorando da tre, mette a cinque, e l'abbiamo allucinato, perché, solo fatto, che ci diciamo il Consiglio, per il dato che abbiamo in mente, diviso, tra un nazionale, e solo la nazionale, con posizioni del diviso, siamo tutti tutti, solo fatto, che ci diciamo qui, in quattro persone, inizio a tutti, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 8, significa che il lavoro, si acc設chi il cartoro, fino a ora, in una parte i soldi, per essere ancora rimasti, questo è lo scompa, possiamo avere delle posizioni, inizionali, per esempio, perché? Finire un lavoro, inizialmente, passo a passo. È proprio perché sono? Da te, ma dentro di spazio, che è stata l'idea, di modificare il modello. Tutti, quando ci facciamo che c'è un'idea sana, di un'area giusta è che ha attività, va fatto proprio come dire, perché è una cosa che in regolamento va modificata, modificherà la mia condizione, la tua condizione e la condizione di gestire l'amministrazione di dispiose questa amministrazione della città. Se l'alto dice ah abarca, non dire presto, non l'intenzione di fare in milicello, l'intenzione di arrivare a un punto di comune, di accordo con tutti, ma io d'altro che andiamo a fare la proposta quindi portare tantina questa situazione mi servirà per la vita.